Partesa per il vino. Passione nel servirti, con un portfoglio di vino di qualità con oltre 1500 referenze, con etichette italiane ed internazionali. Passione nel servirti, con prestazioni dedicate ai clienti del canale Oreca, soprattutto grazie ad un servizio logistico di distribuzione efficiente e puntuale senza minimi d'ordine. Passione nel servirti, con un team di esperti in continua formazione, in grado di supportarti nelle scelte e nella evoluzione dei trend di mercato. Siamo Partesa per il vino. Passione nel servirti.